Il primo scoglio è superato, ma per raggiungere il traguardo finale ci sarà ancora del lavoro da perfezionare. Piccole integrazioni che potrebbero però risultare fondamentali per entrare a far parte del gruppo di 60 progetti che il Ministero dell'Istruzione finanzierà attraverso le risorse della buona scuola. Il progetto Holy Green Tech Lab dell'Istituto Lotti Umberto I di Andria supera la prima fase nazionale dove era in competizione con altri 500 progetti e accede alla cerchia più ristretta di 150 candidati che cercheranno di ottenere un finanziamento di circa 500 mila euro. L'obiettivo è quello di realizzare un laboratorio digitale mobile dedicato alla filiera olivicolo-olearia che permetta ai ragazzi di acquisire competenze spendibili in un mercato del lavoro che oggi richiede figure professionali fortemente specializzate. È una misura prevista dalla buona scuola grazie alla quale si possono finanziare i cosiddetti laboratori digitali per l'occupabilità. Laboratori che devono avere contenuti tecnologici fortemente innovativi ma che soprattutto devono collegarsi con le filiere produttive del territorio. Per cui noi facendo un po' sintesi degli indirizzi che abbiamo, dell'indirizzo turistico e soprattutto dell'indirizzo agrario abbiamo presentato questo progetto che prevede delle tecnologie, praticamente un laboratorio mobile di mappatura del territorio con droni, con apparecchiature all'avanguardia per consentire da un lato ai ragazzi di poter esercitarsi su metodiche e metodologie di coltivazione e di produzione agricola all'avanguardia e dall'altro poter offrire al territorio, quindi agli stessi agricoltori degli strumenti tecnologici che loro mai potrebbero finanziare con la loro attività. Tanti partner trovati dalla scuola Lotti Umberto I di Andrea per realizzare il progetto candidato ai finanziamenti del Ministero. L'auspicio, sottolinea il dirigente Annese, è che anche le istituzioni vogliono sposare un'idea progettuale che può far crescere il territorio in termini di occupazione e qualità del lavoro. È importante che ora le istituzioni, ma io motivo di ritenere soprattutto le istituzioni politiche, colgano la valenza di questo progetto, la ricaduta che può dare sul territorio e il valore aggiunto che ne può rinvenire a livello anche di crescita di PIL. Sparliamo sempre a sproposito di questo concetto economico, in realtà la ricchezza la puoi creare se hai le attrezzature idonee, se hai forza lavoro che le utilizza al meglio e quale occasione migliore di questo, visto che la buona scuola ha previsto e finanziato in maniera così ingente l'acquisto di queste nuove tecnologie.